Domani ho necessità di entrare in contatto con le decine e decine di dirigenti missini che non sono riusciti ad essere presenti nel congresso, non sono stati eletti dato il maggioritario vigente per la scelta dei delegati al congresso nazionale e con i quali ho bisogno di stabilire insieme il da farsi. Comunque come ho detto ieri al microfono io non fonderò niente, non farò niente, io resto missini e troveremo insieme la formula organizzativa e anche giuridica per dare corpo, sostanza e capacità operativa a questa impostazione. Le divergenze sono tante, non condivido neanche una virgola delle tesi della maggioranza, perché le tesi della maggioranza sono un balzo nell'Ottocento e la trasformazione del movimento sociale italiano in un partito di destra conservatico, accesamente e indecentemente conservatore. Non ne condivido niente, non ci posso stare.